Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questa nuova puntata di Battleland Royale Arriviamo a 300 like, condividete il video, iscrivetevi al canale S9, lascia il hashtag Battleland Royale con sotto nei commenti per ricevere un cuoricino e noi andiamo avanti con la nostra nuova puntata Allora, qualcuno di voi mi ha detto Morduk fai qualche partita in solitario così prendi un po' meglio la mano nel gioco perché effettivamente, giustamente che sono Nabbo e sono agli inizi direi di andare a migliorare un po' la situazione quindi andiamo a fare qualche partita in solitario oggi, mi dispiace ragazzi, tanto sto giocando in un orario quasi scolastico quindi diciamo che oggi non c'è molta gente di voi, qualcuno l'ho visto ma sinceramente voglio fare un po' di partite in solo per migliorarmi un pochino anche se giustamente, sicuramente morirò tutte le partite, non arriverò nessuna al podio, lo so perché non è cosa, io mi conosco bene, ok andiamo col fucile ravvicinato per questa volta, col mezza canna, non mi ricordo come si chiama canne mozze, si mi sembra si e spatum patumpe tumpe tumpe tero tero pa vediamo un po' se riusciamo a menar questo che sta per morire perfetto, diciamo che mi è andata anche troppo bene c'è un minimo di lag oggi, non so perché forse la modalità in singola è un po' più laggosa non saprei dirvi, ok allora quest'arma ce la siamo portata a casa potrei, visto che questo sta 12 colpi, aggiornare un po' la situazione e prendermena meglio ok, diciamo che stiamo benino l'arma mi piace perché è quella che piace a me ravvicinata ma i colpi ce ne ha veramente pochi me la dovrei giocare così ma sinceramente me la rischio troppo lì ci sono i proiettili quindi direi di andare a recuperarli immediatamente quanto arriviamo a 24 sempre un pochino pochini allora lì ce sta l'air draw no me do, ciaoone, mi dispiace la battaglia adesso non è il caso con una persona che ha un'arma dorata lì in mano riferisco che qualcuno lo prenda a botte male gli faccia sprecare un po' di energy oppure che io trovi uno che sta a sparare qualcun altro che ha sempre l'arma dorata e sboom e gli freghiamo un po' la situazione ok ma tranquillo ma io sto sulle cure siete serie se conto, sì non muore no, non ci credo aha, per un pelo ero quasi morto ok, abbiamo l'arma dorata questo è il fucile a pompa effettivamente dorato 3 kill per fortuna però perché se no non erano 3 kill dai con l'arma da cecchino ravvicinato fai schifo però eh e niente, mi ammazza uguale posizione 8 va bene dai non è andata malissimo le nostre 3 kill ce le siamo portate a casa però faceva veramente male con l'arma da cecchino e poi ci hanno una mira infinita queste persone io devo capire come giustamente dovrei provare a aumentare la velocità del mouse perché non è al massimo quindi potrei pure provare per ridurre il movimento che faccio con la mano con il joystick ma c'ho paura che mi sbarella tutto allora vorrei provare ad andare dietro al labirinto perché delle volte dietro al labirinto si trova quella cassa grande che può avere roba leggendaria dorata dentro che ci piace andiamo a provare oggi è giornata in solitario ragazzi mi dispiace che non sto giocando con voi ma era come ho detto anche per provare un pochino le mie capacità che non sono il massimo quindi dovrò imparare in qualche maniera e avere il vostro supporto spesso a fianco mi dà la facilità del gioco ma noi dobbiamo anche migliorare la situazione ok vediamo un po' allora il labirinto è una buona cosa ma è anche molto pericoloso perché ci ritroviamo magari ravvicinati con l'altra gente e non è un bene allora lì c'è il fucile a pompa come piace a me che è un po' più lungo a distanza però è sempre bello potente il mio avversario ha eh ok andiamo un po' no ho troppo ravvicinato con questo ci muoio eh ci muoio me sa sicuro dai non ci credo però quanta vita c'hanno ragazzi io gli ho sparato di tutto in faccia non può essere sopravvissuto almeno che non ha trovato 20 scudi voglio trovare anche io gli scudi adesso adesso io non combatto con nessuno e mi carico di scudi devo trovarli vado in giro a cercare solo scudi perché non è possibile questi mi partono subito così caricone e mi rovinano quindi sinceramente io potrei provare una zona diversa al rifugio vediamo un po' chi ce va al rifugio che altro perché mi sono messo in una zona proprio centrale del rifugio quindi mi trovo tutti là e infatti probabilmente scenderà qualcun altro insieme a me porca miseria lo sapevo mi pare che mordughino è fortunato ma quando mai allora sono solo con i miei bei guantoni e mi allontano di corsa perché quelli sono pericolosi sperando di trovare altre robine qui al bordo ok un fucile a canne mozze ah beh lì c'è un bellissimo che ci piacerebbe avere vieni qua grazie caro ci piaci e oserei dire di andare a cercare altro ok proiettili che non ci dispiacciono mai sinceramente qui da queste parti c'è anche l'airdrop ma io ho abbastanza paura di avvicinarmi all'airdrop in questa situazione però c'è la cassa buona ok me la voglio prendere sperare di trovare un'arma decente allora la cecchino non è male se qualcun altro sta combattendo gli diamo fastidio alle spalle infatti qui c'è anche l'altra cassa due cassa addirittura speciali in solo l'area si sta stringendo proprio in questo momento oh arma buona che mi piace di più della cecchino ok lì sta uno che sta a corre è morto per la barriera ok prendiamolo male a questo se ci riusciamo dai ok ucciso ucciso fudo immediato perfetto no se già dai però no hanno accelerato troppo la chiusura dell'area e questo mi dà un bel problema la corsa contro il tempo ok siamo nella zona dell'area abbiamo un po' meno vita non siamo full servirebbe qualcosa che mi dà un po' di energy e già se sta a ristringere un'altra volta in 11 secondi no quanto hanno velocizzato qualcosa qua perché è un po' sì beh no però c'ho poca vita io mi sa che ci muoio no e beh proiettili per me proiettili per me però abbiamo il deficit che non abbiamo nessuna cura a giro e penso che qui al centro sia ormai rimasto poco e niente io ci posso pure provare a cercarle che magari loro stavano tutti full ecco qua c'è qualcuno lì io me do ma largo in che posto ma largo e spero di trovare una cura intorno perché non c'è più niente non c'è più niente da fare qui si stanno a menà ok bam prendiamo un po' di fortuna no quelli stanno a fa team però quelli fanno team guarda che schifosi hanno fatto team ragazzi hanno fatto teammino no non ci credo che maledetti hanno fatto team in solo e vabbè dai posizione 4 mi andrà pure bene per 2 che hanno fatto team guardate guardateli guardate i maledetti questa è riportabile ragazzi se trovo il modo di riportarli li riporto ok va bene diciamo che questa è andata abbastanza bene per essere una partita in solo me ne faccio un'ultima perché abbiamo ancora un po' di tempo e vediamo cosa succede se riesco ancora a giocare decentemente anche se c'ho una mira che fa pena e pietà ma non si sa mai voglio provare a riscendere di nuovo qua mi sono trovato bene a rifugio anche se ho trovato altra gente che scendeva proprio lì e questo mi ha dato un bel po' di problemi sicuramente troverò qualcun altro di nuovo perché mi sa che qua ci stanno un sacco di drop quindi la gente è molto attirata da questa cosa infatti questo sta scendere qua è presa la cecchino ok questo pure vuole prendersi un'arma ok benissimo ottimo mi è andata alla grande alla grande no non mi prendo quello lì comunque qui ci stanno delle cure gigantesche ottime cioè qua vicino così tutte comode sinceramente non è andata neanche troppo male voglio rimanere con sta arma voglio rischiarmela voglio provare a cambiare un po' di stile sperando che magari se mi droppa qualcosa di buono mi arriva un airdrop decente vicino spero che non sia troppo lontano sta airdrop allora l'area si sta ristringendo qualcuno l'ha aperto però mi sa perché non vedo più la freccia sembra che quando non si vede più la freccia qualcuno ha fatto il danno se l'è fregata probabil infatti è lui ce l'ha lui ce l'ha ok dovrei vincere io no perché il suo era il fucile a pompa dorato e mi ha smontato sicuramente avrà dorato pure qualche scudo me la sono rischiata troppo quindi ci riproviamo dai ultima partita fino adesso una sola è andata decente le altre ne troppo schifo forse perché me la rischio troppo io ho troppo la foga di cominciare ad attaccare quando so anche delle volte che c'ho meno di quello che c'ho davanti invece sto gioco è prendo roba e cerco di sopravvivere allora vorrei andare qua vai prigione mi la rischio alla prigione oppure lì dietro al labirinto ho fatto come fate voi con me che cambia dall'ultimo secondo però l'ho fatto da solo ah no non me l'ha contata ah bene quando lo fate voi conta quando lo faccio io no questa è un po' di cattiveria allora qui ci sono gli scudi un paio di scudi che a me devo dire che non dispiacciono ok rimango con quest'arma no questa è tipo mitraglietta quindi preferisco lei sicuro ok c'è uno che si chiama yes va bene bei nomi ragazzi bei nomi che vi mettete delle volte mi piacciono proprio tanto allora un altro scudino lì scudini qua abbiamo capito che sono importanti ora cerco di andare un po' progressivo e aspettare stando più attento possibile a non ingaggiare immediatamente contro qualcun ho capito però me li metti davanti dai ok questo se è dato potrei pure lasciarlo perdere cercare roba perché il mio interesse adesso non è uccidere è sopravvivere e potenziarmi per poter poi uccidere ok ho usato 5 colpi quindi levo subito l'arma da terra per qualcun altro e me la frego io grazie molto gentile allora lì c'è una cura grossa vicino al labirinto non c'è niente mi sembra di no sarebbe piaciuta una bella cassa di quelle potenziate ma ma manco se me paghi la trovo lo so oh c'è qualcuno qui che c'aveva comunque l'arma decente e se sta da perché probabilmente c'ha poca vita ok è scappato lasciamolo andare combatterà contro qualcuno con meno vita e morirà a noi non interessano le kill interessa arrivare sul podio diciamola tutta le kill sono belle ma se pensi solo alle kill crepi subito a noi non interessa morire subito non interessa potenziarci sto cercando roba ma mi sa che ormai quasi sono magnati tutto sono rimaste le cure ok si è messo sulla cura apposta lui se sta da quindi ok ci sta provando come facevo io con la curetta però stai usando male il raggio della tua arma lo sai grazie ah non mi sono neanche fatto danni sono rimasto a 19 colpi siamo tra gli ultimi 9 c'è uno che sta a correre qua che l'ho preso prima io quindi dovrei avere un po' di vantaggio danni perfetto e senza uscire dall'area ho fatto la cavolata perché ho preso prima i colpi e poi la robina allora stiamo fuori aria e mi piacerebbe una cura c'è una cura c'è uno scudo lo scudo non mi dispiace perché c'ho poca vita quindi vuol dire comodità ok lo sto colpendo alle spalle al maledetto poverino ok non trovo cure e questo mi da un bel po' di problema c'è uno c'è uno alle spalle guardalo guardalo il maledetto di nuovo sempre top 3 top 4 sinceramente non ho fatto forse ho fatto una kill forse va bene dai ragazzi questo era un test per vedere se riusciva a fare qualcosa in solo è un po' più difficile perché ormai mi sono abituata in duo quindi c'ho sempre una copertura dietro alle spalle e qualcuno di voi bravo cercherò magari di alternare un giorno le faccio singole e un giorno le faccio in coppia con voi così magari io imparo piano piano a giocare e poi ho la vostra mano sulla spalla che mi da una zampa 300 like condividete il video iscrivetevi al canale se no e lasciate hashtag battlelandsroyale per ricevere un cuoricino e ci vediamo in un prossimo episodio